Uno strumento utile per conoscere il nostro Gargano, Gargano App, un'app nata da un ingegnere viestano di Berantonio Pio Sciannamè in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno ingegnere, benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, Gargano App che nasce sulla scia del grande successo di Vieste App, che cos'è e come nasce? Allora, Vieste App e Gargano App sono delle app nate da un mio desiderio di sapere cosa fosse possibile fare sul Gargano, su Vieste e sul Gargano. Essendo stato fuori tanti anni, quando rientravo a Vieste mi perdevo sempre tanti eventi, poiché non avevo un contenitore in cui trovarli tutti quanti. Quindi è stata più una forma di voler creare un aggregatore di informazioni utili sia al turista ma anche al local, alle persone dei vari paesi. Quindi è come dire, non è solo un'app turistica, è un'app che riguarda tutti coloro i quali vivono sul Gargano. Che cosa possiamo trovare all'interno di questa applicazione, ingegnere Sciannamè? Allora, nelle applicazioni è possibile trovare delle informazioni molto semplici che vengono utilizzate da quello che mi è stato detto, i feedback ricevuti soprattutto dai local, che sono tipo quando c'è il mercato, mercato quindicinale nel paese, le donazioni di sangue, oppure anche informazioni sul cinema, cosa è in programmazione. Ci sono poi gli eventi dei vari comuni. Abbiamo creato anche una sezione sulle varie experience che è possibile fare sul territorio. C'è anche una sezione di informazioni utili, di servizi utili che possono essere indispensabili per chiunque, che vanno da dove stanno i parcheggi, immagino per i turisti, dalle farmacie di turno, perché spesso ci troviamo il sabato e la domenica a non sapere qual è la farmacia di turno, informazioni per i bambini dei vari parco giochi dove possono andare a giocare, e ogni location, ogni attività ha il suo puntatore sulla mappa ed è possibile raggiungere tramite il navigatore del proprio telefono. Quindi l'avevo fatto in maniera che fosse più semplice possibile anche raggiungere le attività che sono state inserite all'interno delle applicazioni. Quindi si scarica immagino in maniera molto semplice attraverso il proprio smartphone? L'applicazione è disponibile sia su Play Store che sull'Apple Store, quindi sia per Android che per iOS, è del tutto gratuita, non c'è nessun form di registrazione, non si lasciano dati, bisogna solo scaricarla e utilizzarla. Quindi molto bello il fatto che comunque si è fatto rete con tutti i comuni garganici, immagino, sono tutti compresi in quest'app. Quasi tutti, quasi tutti. Man mano stiamo cercando di creare collaborazioni, anche perché ci sono tanti comuni, tanti eventi, tanti collegamenti, c'è da fare una grande rete, e quindi man mano che riusciamo a trovare le collaborazioni con i vari comuni, andiamo a inserirli all'interno dell'applicazione. Quindi un comune che oggi non c'è, domani potrebbe essere presente perché o ci hanno contattato, o siamo riusciti a contattarli, o sono nate delle sinergie e collaborazioni con alcune attività del posto del comune. Benissimo, allora come dire, un motivo in più per scaricare Gargano App, perché no anche Vieste App, speriamo possa davvero essere una stagione turistica importante per i nostri territori, le nostre località turistiche. Vorrei chiederti perché venire in vacanza a Vieste, ma saresti di parte, quindi... Eh sì, effettivamente sì. Dai, prova a chiedertelo. Venire a Vieste per poi godersi il Gargano. Infatti l'applicazione Gargano App è nata proprio a base dei dati statistici di Puglia Promozione, si è visto che il turista che viene a Vieste si ferma per parecchi giorni. Quindi avendo in mano uno strumento di quale può dimostrare che ci sono degli eventi in altre località, è spinto anche a conoscere altri paesi della zona e ne approfitta per andare a conoscere il paese, per vedere quello che c'è da fare e perché no prenotarsi anche qualche experience in più. Quindi ormai non c'è più il turismo passivo di una volta che la gente veniva e andava al mare tutto il tempo, ma si punta più su un turismo esperienziale che la gente vuole andare in giro, vuole conoscere e avere tanti ricordi della vacanza. Poi il Gargano permette tutto questo, dalle esperienze enogastronomiche a quelle appunto che riguardano il mare, luoghi di culto, come non citare San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo. Insomma davvero una vacanza a 360 gradi, un'esperienza turistica e di vacanza. Grazie all'ingegner Liber Antonio Shanamè per essere stato con noi quest'oggi. Buon estate, buon lavoro perché sentiamoci anche magari per altre applicazioni che possono in qualche modo valorizzare il nostro territorio. Abbiamo qualche altra idea in cantiere da sviluppare. Bene, allora ti aspettiamo. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Linea alla regia, breve pause e poi ancora insieme. Grazie. Grazie. Grazie.